C'è un'Italia che piace e parecchio, lo raccontiamo noi oggi sul tempo dicendo chi ci ruba la casa con una mini inchiesta e non è l'Italia del patrimonio culturale, dei nostri beni culturali di cui andiamo giustamente fieri e che deteniamo il 60% del patrimonio, dell'intero patrimonio mondiale. No, è l'Italia del patrimonio immobiliare, non quello statale ma addirittura quello privato, cioè la nostra casa che sta per subire un assalto da parte dei fondi sovrani stranieri che hanno, pensate, una potenza di fuoco di 4.500 miliardi, una cosa come quasi tre volte il pillo italiano. E perché entrano pesantemente nello scenario italiano? Perché sono appoggiati, aiutati, tra virgolette, dalla direttiva Casa Green, sapete quella che è stata appena varata dal Parlamento Europeo, quella che impone attività e azioni di efficientamento energetico per le nostre case. Case che, dicono le stime, sono per oltre il 50% vecchie, di oltre 50 anni, appartengono a un'edilizia anni 70. E quindi avevano bisogno di essere assolutamente efficientate. Avete sentito parlare tutti di cappotto termico. Tutti gli italiani speravano nel super bonus per realizzare questi lavori. Abbiamo capito che il super bonus è stato praticamente un baglio di sangue da tutti i punti di vista, per lo Stato e per i privati. Per cui che succede? Intervengono i fondi sovrani che hanno una liquidità che nessuno può immaginare di avere. Abbiamo detto 4.500 miliardi. E che fanno? Aiutati dalla direttiva Casa Green potrebbero venire a bussare alla porta degli italiani impossibilitati a realizzare questi lavori. Perché nel frattempo la crisi ha bloccato e la crisi del super bonus ha bloccato gli sportelli bancari. Le banche praticamente non concedono più credito potrebbero venire a bussare alle nostre case per proporci la realizzazione di lavori a loro spese in cambio della proprietà del bene. Quindi potremmo addirittura avere un cambio di paradigma sociale. Diventare inquilini in casa nostra. Uno scenario addirittura devastante. I partiti di centrodestra si sono opposti. Ero votato no alla direttiva Casa Green anche per scongiurare la riproposizione di quella maggioranza Ursula che tanto male aveva fatto con la politica eccessiva del Green targata Timmermans. Si può ancora fare qualcosa? Anzi si deve.